Ciao a tutti, sono Raphael Gualazzi, questa è la mia quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Presenterò un brano che si chiama Carioca, è sicuramente un brano che dà grande spazio al senso ritmico della musica e quindi riporta delle atmosfere sudamericane che sono sicuramente delle importanti componenti musicali che hanno influenzato anche il mio percorso. Sul palco sarò accompagnato ovviamente dal mio pianoforte, accompagnato dalla meravigliosa orchestra di Sanremo come al solito quindi sempre un palco stupendo sul palese inglese. Il ricordo più bello che ho del Festival di Sanremo è il grande successo di Modugno che per noi è ormai un inno nazionale e soprattutto è un brano molto amato anche da tutti i musicisti jazz perché è una composizione immensa insomma quindi il ricordo più bello è appunto volare. Non sono scramatico, direi che la musica è abbastanza irrazionale già come disciplina perché non c'è bisogno di essere scramatici. Ciao a tutti, ci vediamo su Rayplay.